Avete mai provato ad abbinare fichi e melanzane insieme? Un antipasto veloce di fine estate. Parto da una melanzana stretta e lunga come questa, la taglio a striscioline sottili e la condisco con olio e sale. Dopo averle grigliate unisco anche succo di limone e timo. Sbuccio i fichi e poi spalmo uno strato sottile di yogurt su una fetta di melanzana. Io sto usando questo della soia san e la arrotolo su se stessa con un fico al centro. Et voilà, un finger food un po' insolito ma che a me è piaciuto davvero molto.